Cuffia dei rotatori. Ok, stiamo facendo lavorare gli extra rotatori della spalla, quindi i muscoli che ci fanno fare una rotazione esterna del braccio. Mantieni l'elastico con i palmi rivolti verso l'alto e apri le braccia mantenendo i gomiti vicino al corpo. Questa è una fatica strana, non preoccuparti se senti poco lavoro perché la fatica poi arriverà in maniera esponenziale. Continua a lavorare. Mantieni lo stesso movimento, la stessa velocità sia quando apri che quando chiudi. Immagina di tenere due asciugamani tra il gomiti e i fianchi in modo tale che tu non possa aprire i gomiti altrimenti cadrebbero questi asciugamani. Ok, continua.